La nuova drammaturgia e la danza contemporanea con le più interessanti compagnie del circuito indipendente tornano al centro polifunzionale di Piscinola nella periferia nord di Napoli con la stagione 2016-2017 del TAN il Teatro Aria Nord gestito da teatri associati di Napoli con un cartellone di 12 titoli teatrali e 7 spettacoli di danza in abbonamento per la direzione artistica di Ilenia De Falco e di Lello Serao che abbiamo ascoltato ai nostri microfoni Abbiamo ovviamente come sempre pezzi estremamente popolari e accessibili noi facciamo un abbonamento small a 10 spettacoli più uno di danza che costa 90 euro compresa la card che consente poi l'utilizzo della navetta eccetera eccetera e avere della scontistica negli altri teatri poi facciamo un altro abbonamento a 110 euro che sono 12 spettacoli sempre più uno di danza e uno poi full di 130 euro in cui invece c'è anche il Cineforum già inserito all'interno La stagione è stata anticipata nella conferenza stampa tenutasi a Palazzo San Giacomo alla presenza dell'assessore alla cultura del comune Nino Daniele che ai nostri microfoni ha sottolineato l'importanza di teatri come il TAN Il TAN è una delle presenze più interessanti del teatro nel nostro paese è una realtà all'avanguardia presenta un programma di altissimo valore fa tanta sperimentazione costruisce edifica come è il titolo della stagione di quest'anno tante cose positive legami, relazioni presenze presenze da altre parti d'Italia qui in una realtà che ovviamente dal punto di vista sociale è molto complicata quindi credo che ci vuole andare a teatro a Napoli al TAN, al teatro e a fare tante altre esperienze ha davvero un'occasione come poche grazie a tutti grazie a tutti